Bello questo libro che ci permette di riflettere, di studiare, di approfondire e nello stesso tempo anche di ricordarci quello che Bologna è e che vuole essere anche in futuro. L'enogastronomia rappresenta sicuramente uno dei settori trainanti del nostro territorio, della nostra economia, quindi benvenga un libro così importante che è stato realizzato con la collaborazione di tanti amici in cui Commercio Ascom di Bologna si è ritrovato e ha avuto il piacere di collaborare. Il libro è una risposta alla banalizzazione che spesso viene fatta che il tortellino nasce dall'ombelico di Venere, invece ha origini lontanissime, fin da forse mille anni di storia, nel 1100 quando i crociati partirono da Bologna e i festeggiamenti furono fatti, si dice, con un involucro di pasta con un ripieno di carne. Da lì è stato un percorso, una goloppata nei secoli di rinnessimento, la Belle Epoque, il Novecento, fino ad arrivare nel dopoguerra quando il sindaco Zangari, il 15 dicembre del 1974, andò a depositare la ricetta dei tortellini. Una cosa abbiamo imparato dalla pubblicazione di questo libro è che riprende le tracce storiche nero su bianco, che il tortellino non è mai rimasto fermo, si è evoluto, se vogliamo usare questa parola, e quindi è cambiato nel corso della storia e che quindi forse non è più una bestemmia dire provo ad andare avanti su questa strada che la storia ha insegnato. La cosa curiosa è stata quando il commensale si è stupito di come fossero particolari i primi tortellini che abbiamo presentato, quindi quelli a partire dalla fine del 1200-1300, cioè 14 secoli in avanti, cioè i primi tre che erano i più particolari, se vuoi, quindi col dattero, con la mandorla, con lo zenzero, sono stati quelli che hanno colpito di più, non solo nella curiosità, ma anche nel cuore dei nostri commensali, quindi è stata curiosa. La cucina è evoluzione? La cucina è sempre evoluzione, la cucina non è dogmatica, la cucina non può rimanere ferma perché se la cucina rimane ferma muore. L'editoria bolognese, quando ha parlato di gastronomia, è sempre un po' distinta tra l'editoria nazionale, è stato il primo libro che parlava di come utilizzare gli avanzi di cucina, è stato un libro bolognese, qui a Bologna sta la più grande studiosa di storia dell'editoria della gastronomia, che è la professoressa Moroni, abbiamo avuto il professor Montanari, cioè diciamo che abbiamo una tradizione molto ricca di studiosi e di pubblicistica che riguarda la gastronomia. E questo libro, secondo me, entra in pieno, riesce ad avere degli elementi di novità che lo collocano in questa grande compagnia.